Due chiacchiere finalmente con Cuba Wojciechowski, quest'anno ci siamo visti pochi, però ci troviamo dopo l'ennesima vittoria di Torino, la seconda consecutiva. Una bella partita, Wojciechowski gioca tanto, schiaccia, tira da tre, tutto normale? Sì, è abbastanza normale, sì. Guarda, tutta quella parte iniziale della stagione non era il problema avversari, non so, la tattica, i allenatori, questo no. Secondo me era solo, non è anche il problema, è solo un attimo di allenarsi tutti insieme, di conossersi tutti quanti perché è arrivato Team, poi io ho saltato qualche partita all'inizio con Mancinelli, anche con Ron, quindi non eravamo... Guarda, fino ad oggi non siamo andati una volta insieme perché manca anche Zonotti, quindi è solo lavorare con noi e darci ancora un po' di tempo perché abbiamo saltato un po' la preparazione perché mancavano tutti i giocatori, quindi secondo me questo è un buon inizio di vedere Veranest in Torino nostra. E con i giocatori che ha ricordato Cuba che sono arrivati, ricordiamo anche i giocatori che si sono avvicendati tipo Stoico, Viglianisi, Kess, insomma un cambiamento pazzesco in entrata e in uscita. Come è all'andata comunque con Kess e Stoico, oggi con Bowers e Ronald Steele è andata direi bene, Verona è una delle squadre forse più forti però evidentemente un po' ci patisce. Sì, era una forte squadra con un forte allenatore, noi abbiamo fatto sempre la partita con l'inizio, oggi il nostro obiettivo era cominciare forte, abbiamo cominciato forte, poi difesa, difesa, difesa come sempre dice il nostro allenatore, abbiamo cercato di difendertura la partita anche se c'era uno dei momenti più freddi in attacco e questa è la chiave della vittoria di oggi, l'inizio forte e poi difesa, difesa, qualunque cosa succede, difesa. Possiamo dire oggi il primo tempo più bello della stagione per adesso? Eh sì, molto probabilmente, anche secondo me è molto bello perché eravamo pronti, eravamo caldi, subito buona difesa che apre l'opportunità a fare contro piede, canestri facili e siamo andati subito in avvantaggio. Innanzitutto ricordiamo che non sono io che sono basso ma lui è alto, questo per precisare la discrepanza. Ronald Steele, il dramma ci ha dato, a un certo punto il giocatore è in grande forma, mette 4 tripe su 4, a un certo punto si accascia e esce, noi non ne sappiamo di più, ci sai dire qualcosa tu? Non so anch'io perché non sono ancora passato per lo spolatoio, però è un giocatore che ormai viene da un infortunio, sa come gestirsi, ha sentito magari qualche piccolina, un dolorino così per sicurezza come ha avuto l'infortunio, ha scelto di andare nello spolatoio anche che eravamo sopra di tanto. Adesso vediamo cosa dirà il dottore, speriamo che tutto vada bene. Scelta tecnica, insomma, non andiamo a correre rischi, insomma, in questo senso. Sì, perfetto, in questa partita non volevamo rischiare ancora di più di Ron, adesso penso che domani, anche stasera, farà degli esami e speriamo che non è niente di grave. Come ti trovi con due vecchi marpioni come Mancinelli e Amoroso a dividerti lo spazio del ruolo di lungo? Guarda, io Mancino e Valle lo conosco da un parecchio tempo, quando giocavo a Treviso loro giocavano uno a Teramo e l'altro a Milano, quindi lo conosco benissimo, sono tutti qua come i miei compagni, finalmente come i compagni della squadra, quindi... Guarda, io ero accolti benissimo, poi sono due giocatori italiani, uno dei più forti che sono mai stati in Italia, quindi io a ogni elemento cerco di guardare cosa fanno, quale è la chiave del successo e cerco di copiare e ovviamente giocare contro loro. Verona, Vella, Gandini, Callaghan, il nostro terzetto di lunghi, direi che oggi non ha sofferto nulla, a un certo punto addirittura forse leziosi, vedevo che la schiacciava e veniva bene, tutti hanno un po' cercato di alzarti questa palla oggi. Sì, perché questi sono i punti facili, capito, se noi riusciamo ad arrivare al punto dove con penetrazione di un piccolo riusciamo a creare un aiuto da lungo, questi sono punti facili, l'ho fatto tutto l'anno scorso perché non possiamo farlo anche quest'anno, perché no? Poi avendo ancora i più migliori passatori dell'anno scorso, perché no? Se ci permettono possiamo fare tutti i 100 punti così, perché no? Cuba non vedo l'ora di vederli contro il Panatinaico, non c'è nessun problema, siamo qui per questo. La prossima avversaria è giovedì, una finta partita facile. Tanto aspettiamo che Matteo Stella arrivi al tavolo della giuria e continuiamo. Forlì è una squadra che ha pochi punti in classifica ma è molto forte. Cain, forse addirittura uno dei lunghi o giocatori più bravi di questo campionato. Guarda, noi abbiamo preso contro Fogli in casa all'ultimo secondo, giusto? No, 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 grazie, abbiamo vinto. Abbiamo preso contro Trieste, canestro di Carra. Perfetto. Hanno un giocatore che sotto canestro, sì, è bravo, è bravo, molto bravo tecnicamente. Però sempre torniamo secondo un discorso di quello di non guardare gli altri, di lavorare con noi, noi abbiamo questi giocatori, sono tutti forti. Adesso lavorandoci insieme, secondo me sarà solo meglio e senza guardare chi c'è davanti. Siamo noi, vogliamo fare le nostre cose e nessuno può, cioè possono cercare di difendere e noi dobbiamo sempre fare le nostre cose, sempre le nostre cose. Dai ripetere, ripetere, non pensare a chi c'è davanti, cosa fanno andare in continuità a fare le nostre cose. Perché noi giochiamo a basket, lo facciamo bene e vogliamo continuare a fare così. Cuba non ha paura, noi neanche. Quindi salutiamo Cuba e lo ringraziamo. Speriamo di vederti ancora mille volte, mille interviste e mille vittorie. Speriamo, speriamo. Soprattutto vittorie. Complenti per Alessandro Pernice e un grande bocca al lupo, adesso con questo camionetto di vita. Auguri veramente dal cuore per Lorenzo Bardasso. Ciao. Grazie.